Siamo qui con Gianni Bertamini alla gara di Sobbox di Bolognano, giunta la sua terza edizione. Cosa ci può dire della gara? Eventualmente abbiamo cominciato così per gioco, ci siamo accorti che si dimostra una gara veramente interessante. Allora con la prima edizione abbiamo tentato a riuscire a migliorare con la seconda. Ci stiamo accorgendo che è una gara che veramente soddisfa anche la gente. Questo qua tanto parlato non ti do, è un campionato dell'Italia, diciamo che vengono un po' da Parese, da Bergamo, sono tutti quanti da Bergamo più che altro. Ma comunque come dico la gara attira gente, vediamo sopra dove ci sono i giochi, c'è un parca gente, gli ostacoli in meno. E appunto dopo ci sarà la gara ostacoli, gli ostacoli quali sono e chi li ha inventati? Beh, l'invenzione degli ostacoli è sicuro del Boccaserelli, il Boccaserelli, l'ha iniziato ancora parecchi anni fa, quindi questo l'abbiamo solamente subito, diciamo, l'abbiamo accolto più che altro. Gli ostacoli, quello dell'acqua, la vasca, dopo abbiamo qua l'arrivo, l'ostacolo della scuola e abbiamo visto il salto. Gli ostacoli, il Boccaserelli, l'abbiamo accolto più che altro.